Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Nel corso di questo sabato avremo ancora tempo complessivamente caldo su buona parte. L'Italia tuttavia arriverà aria leggermente più instabile in alta quota che darà vita a un po' di nuvolosità su buona parte della penisola e anche qualche isolato fenomeno principalmente al nord ovest, sull'arco alpino e nelle aree interne del centro e del sud. In Abruzzo una giornata ricca di nuvolosità, saranno prevalentemente nubi alte, ricche di polvere sahariana in sospensione alle alte quote, però qualche isolato addensamento più compatto potrebbe svilupparsi durante il pomeriggio nelle aree interne, dando luogo a qualche rapidissimo piovasco, qualche tuono, qualche rapidissimo temporale. Nulla di particolarmente rilevante, parliamo di fenomeni molto molto isolati. Le temperature in leggero calo momentaneo, massime tra i 27 e i 31 gradi, minime tra i 14 e i 22 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni